Allora lì c'è quello vai devastalo Ok ragazzi mamma mia devastato col minigun E lì c'è l'uno fottuto col minigun Oh merda c'è un altro qui sopra via via Colpiscilo in testa ok dovrebbe essere morto L'uccisione come al solito no non è morto Ragazzi era caduto per terra via crepa Ciao a tutti ragazzi qua Dexta Oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con un nuovo deathmatch Allora avevo iniziato questo deathmatch prima Però poi purtroppo mi sono improvvisamente trovato Fuori dall'attività Comunque siamo di nuovo ragazzi in uno di quei deathmatch Assurdi con i veicoli armi fisse E cose epiche proprio appunto Per divertirci Attenzione c'è già qualcuno che mi spara oh merda oh merda Dove siete bastardi dai che vi fotto dai che vi fotto Allora lì c'è uno ragazzi ucciso così Io mi riparo dietro l'albero non mi avrete mai Bastardi da qualche parte qui dovrebbero Eserci insomma ragazzi anche Dei carro armati infatti lì già qualcuno Ragazzi qualche nemico ha preso qualche auto Vediamo se possiamo già ucciderlo Allora vediamo un po' dov'è il bastardo Non lo so l'hanno fottuto ragazzi Da qualche parte qui dovremmo avere dei fottutissimi Carro armati Ovviamente ci sono anche per l'altra squadra Vediamo un po' se li troviamo oppure no Vediamo un po' se il deathmatch qui ci trolla Attenzione chi è che mi spara Attenzione oh merda guarda questi bastardi Ok quello è morto e quello mi ha ucciso incredibile vai Anzi ne avevo ucciso uno ma poi sono arrivati all'improvviso Ok il mio compagno lì sotto forse ha preso qualcosa Da quella parte ci sono i carri va bene va bene L'importante è che i miei compagni abbiano preso qualcosa così da andare avanti Attenzione qui c'è qualcuno uccidilo uccidilo Oh merda capriole vai fottilo Attenzione dove sei Dove sei quello lì vai È morto ragazzi perfetto Cerchiamo di andare avanti Guardate i miei alleati che arrivano con i carro armati Allora forse ce n'è Oh merda Lì ce n'è uno Ragazzi c'è gente ovunque c'è gente ovunque Oh cazzo capriole Uccidi quello uccidi quello uccidi quello Vai è morto abbiamo contribuito in qualche modo Spariamo anche a quello lì ragazzi è volato completamente Mamma mia la distruzione La distruzione Allora c'è altra gente forse lì che sta arrivando Vediamo se possiamo uccidere qualcuno Comunque è bellissimo giocare questi deathmatch È totalmente assurdi ragazzi Incredibili proprio Guarda cosa fa il bastardo Vuoi abbattere il carro Muori Occhio è morto Ragazzi Non ho capito Mi hanno fatto esplodere Ma quello lì Occhio è morto in ritardo No vabbè incredibile Incredibile La gente muore dopo una vita Praticamente Allora io vorrei prendere quest'auto E andare un po' in giro Per magari cercare delle armi migliori Dai via via di qui Attenzione Cerchiamo di scappare Allora Lì sotto c'è qualcos'altro Vediamo perché i miei compagni hanno preso I carri da quella zona Quindi vediamo se ce n'è qualche altro O se troviamo qualche altro veicolo Così da andare a devastarli No ragazzi Non c'è nulla Soltanto paracaduti Perché ci sono i paracaduti? Forse perché c'erano anche degli elicotteri Ovviamente Ovviamente Vabbè Andiamo in giro Praticamente adesso dovrei essere dietro i nemici Scendiamo da qui Perché tanto da dentro l'auto Non posso fare nulla Allora prendi Questo fucile perfetto C'è qualcuno ragazzi Lì dietro che si ripara Mamma mia Sono proprio Sono nella loro tana ragazzi Allora lì Uccidiamo un po' di persone Vai vai uccidi quello Uccidi quello Uccidilo Uccidilo Perché non muore? Mamma mia ragazzi Tutti in ritardo Ma è assurdo Ok anche quello è andato C'erano un altro qui Ok i miei compagni l'hanno ucciso Qui c'è un carro esploso Oh merda Devo allontanarmi Cioè proprio sono andato ragazzi Nella loro fottutissima zona Oh merda C'è gente che arriva Via capriole Spariamo a quello Vai 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 Andiamo Da dove? Da dove? C'è un altro ragazzi Mi stava sparando Oh merda Sì vabbè ma la gente qui È bagatissima Cioè non muoiono Muoiono tutti in ritardo Ok quello è andato Quell'altro dovrebbe essere morto Invece Invece è bloccato lì Non lo so Vai vai che muore Vai che muore quel bastardo Attenzione c'è un altro No Mi hanno ucciso Mi hanno fatto saltare in aria La mia squadra Per il momento sta vincendo Allora Andiamo un po' Lì c'è un compagno Ma che sono tutte queste esplosioni Cioè dove cazzo sono gli RPG Allora qui ragazzi C'è un minigun Oh merda Lì c'è uno Vai vai Devasta 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 Perfetto ucciso Qui c'è un altro ragazzi Vai perfetto Devastata anche quello Allora voglio un attimo Ragazzi ma qui è incredibile Le esplosioni Io non lo so Voglio un attimo utilizzare Il mio minigun Allora Eccoli quel bastardo Distruggilo col minigun Vai Vai ragazzi È morto vai col minigun Ho ancora qualche colpo No pochissimi colpi Venite qui Non mi nascondete in mezzo In mezzo ai cespugli Tanto vi troveremo lo stesso Niente non è morto Mi hanno fottuto Vabbè cosa assurda Qui dovrebbe esserci un cecchino Da qualche parte Vediamo un po' C'è sempre gente che spara Da tutte le parti Comunque Siamo in tantissimi ragazzi Dovremmo essere Cioè non so Se adesso qualcuno sia crashato Però All'inizio Dovevamo essere circa 12 contro 12 Più o meno Allora Qui c'è della gente Dove 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 Guarda quel bastardo lì Dentro i cespugli Prendilo 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 uccidilo 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 Vai che muore Occhio è morto Ma Uccisione assistita Vabbè Tutti muoiono in ritardo Non è normale Non è fottutamente normale Allora C'è altra gente qui Che sta arrivando Vai vai da sotto Fottiamoli Occhio quello è morto Ragazzi Confermato Uccisione confermata Vediamo un po' Qui c'è altra gente Oh merda C'è uno qui C'è uno qui Capriole Guarda il bastardo Fottilo Fottilo E purtroppo Ecco mi hanno fottuto Hanno il caschetto ovviamente Poi laggano Ho preso di nuovo il minigun Adesso Vediamo se dalla distanza Possiamo disintegrarli Allora lì c'è quello Vai da vastalo Occhio ragazzi Mamma mia Devastato col minigun E lì c'è uno Ho fottuto col minigun E ovviamente Oh merda Lì c'è altra gente Qui siamo morti per forza No anche quello è andato Ragazzi Uccidiamo quello Uccidi 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 Ok Perché mi cambia arma all'improvviso Io non lo so Forse il mio joystick Mi sta trollando Qui sopra C'è una piattaforma Adesso proverò a salire Perché dovrebbe esserci un cecchino Ragazzi Sarebbe epico Iniziare a fottere tutti Con lo sniper Cecchinandoli In maniera epica Allora andiamo qui Che cazzo c'è uno nel mare Boh non lo so Non lo so Allora andiamo da questa parte Cosa devo fare per salire Cosa devo fottutamente fare Qui è un fottutissimo labrinto Allora vai qui dentro Ok sali sali Dai dai Prima che arrivi qualcuno Prima che arrivi qualcuno Ok perfetto ragazzi Intanto mancano sei minuti O se c'era gente che mi sparava Non lo so Allora dove cazzo è il cecchino Sto continuando a salire Qui per tutta la zona Ma Per il momento non trovo nulla Forse se lo sono fottuto Il cecchino da dove C'era qualcuno ragazzi Che mi sparava Da dove Oh merda Non lo so Attenzione Ah ma lì c'è un'altra piattaforma Forse mi sparavano Da quella piattaforma Non lo so Non ne ho idea Comunque stiamo qui tranquilli Qui c'ho miallato E il cecchino Se l'era praticamente fottuto lui Infatti io ho soltanto Il fucile d'assalto Allora c'è della gente giù Vediamo se da qui posso fotterli In maniera fottutamente epica Vai vai Devasta 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 Ok ragazzi Quello è morto Vai dall'alto Dall'alto Fottiamoli tutti Quell'altro lì è morto ragazzi Oh merda Mi stanno sparando Via 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 Che ho poca vita Via che ho poca vita Ok ricomparso il cecchino Prendi qui Bellissimo cecchino Perfetto Ce l'abbiamo Ok c'è qualcun altro ragazzi Lì sotto Che sta facendo forse Il fottutissimo sniper Oh merda Mi hanno sparato con l'RPG Dove sei? Eccolo lì ragazzi Attenzione Boom Vai l'ho colpito L'ho colpito ancora E' morto Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? America sniper ragazzi Ogni volta Ogni volta Fottutamente epico Allora vediamo se da qui Posso fare qualcosa Con il nostro cecchino Anche se non è proprio Potentissimo Oh merda Si vabbè Qui si muovono Allora c'è della gente lì Andiamo Che cazzo è? Sono stato colpito da chi? Qualcuno mi ha cancellato Ma come? Cioè era sotto di me E riuscito a prendermi C'era tutta la fottutissima costruzione Vabbè ancora ragazzi Qualche colpo di cecchino E boom Colpito bastardo E' morto Vediamo un po' Lì c'è un altro Ragazzi attenzione Boom Colpito anche lui Ma non è morto Colpito No niente da fare Purtroppo non muoiono Non c'è niente da fare Niente alla fine Ho finito le munizioni Vabbè vaffanculo Andiamo Continuiamo da questa parte Con il nostro fucile d'assalto Da dove? Sono ovunque Sono fottutamente ovunque Allora lì C'è un altro Vai va Ragazzi da dove? Cioè sono in troppi Comunque ci sono assistita Ok uno è morto L'ho mandato al tappeto Ah sono morti tutti insieme Vabbè incredibile Comunque ho preso Il giubbottino antipriettile Sono morto Ma compaiono all'improvviso Comunque deathmatch Epico Non c'è Non c'è altro da dire Qui c'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Vediamo un po' Eccolo ragazzi No vabbè Gli ho sparato nel collo E non è morto Vabbè ok Ok Credo comunque che stiamo facendo Un buon punteggio Lì c'è qualcuno Andiamo andiamo Oh merda Vai 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 Distruggiamolo Distruggiamolo Purtroppo Hanno i fottutissimi caschetti Lì c'è un altro Ragazzi Siamo un po' distanti Devo dire Vai vai Devasta 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 Vai è morto Uccisione assistita E poi tantissime uccisioni Sono appunto Uccisione assistite Uccidiamo anche quello Fottilo Ok sono morto Perfetto Devo trovare assolutamente Qualche punto strategico Quello di prima Col cecchino Non era male Solo che ormai Mancano due minuti Ragazzi Non mi conviene più Lì c'è qualcuno Vai che amore Vai che amore Vai che amore Ok ragazzi Dovrebbe essere andato Uccidiamo anche quello Oh merda Sì le uccisioni Me le da tutte in ritardo Praticamente Allora lì c'è quello No niente È stato fottuto C'è altra gente Ma come Da dove cazzo Li lanciano queste bombe Prendi il giubbottino Antiproiettile Avanziamo Vai che qui c'è Tutta la mia squadra Avanza 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 Andiamo un po' ragazzi Dove siete bastardi Ecco qui c'è qualcuno Andiamo vai È morto Lì c'è altra gente Se le fottiamo Eh ma sono in troppi Sono veramente tantissimi Sono veramente tantissimi ragazzi Oh merda C'è un altro qui sopra Via Via Colpiscilo in testa Ok dovrebbe essere morto L'uccisione come al solito No non è morto Ragazzi era caduto per terra Via crepa Ragazzi No vabbè Ma che cazzo succede Quello prima muore Poi non muore Il gioco dalle uccisioni in ritardo Io credo che quello sia morto Invece no Ora è ricomparso lì Boh non lo so Non lo so Comunque cerchiamo di Di continuare A fare le nostre uccisioni epiche Vai colpi in testa Ovviamente mi hanno fottuto Erano in due Qui sopra dovrebbe esserci Qualche arma particolare O merda Entra qui dentro Ok ragazzi No non c'è un cazzo Ce ne sono salito qui Alla fine non c'era nulla Niente perché purtroppo Tutto è sopra È sopra quelle fottutissime Piattaforme Però questa zona Non dovrebbe essere male Non dovrebbe essere male Per fotterli Vediamo un po' se è vero ragazzi Andiamo C'è qualcuno che compare No niente Ok lì c'è ne uno Vabbè L'hanno fottuto subito C'è altra gente Però da questa parte Adesso che forse Vorrà prendermi Vediamo ragazzi Ok c'era uno lì Che è morto Mancano intanto 30 secondi C'era un altro Da quella parte Si stanno avvicinando No niente Io sono fermo qui Vediamo Vediamo un po' dai Fottiamoli Vai ok Quello ragazzi È andato Io ho sperato 10.000 colpi Però ovviamente Ok l'abbiamo ucciso Sempre dopo Lì c'era un altro Fottilo fottilo Anche quello è andato Vediamo C'è altra gente che arriva E dove siete Oh merda Lì ce n'era uno Che è passato Dove siete Cioè forse sono dietro gli alberi Ok è qui dietro Oh merda è qui dietro ragazzi Eccolo capriola Ma è morto L'hanno fottuto all'ultimo Tensione qui moriamo all'ultimo Niente vai Abbiamo vinto direttamente Non so Non so se erano scaduti i secondi Perché c'era sempre La musichetta Comunque sia Abbiamo vinto Ragazzi Deathmatch Fottutamente epico Non so ma Queste cose qui a me Piacciano troppo Piacciano veramente tantissimo Adesso andremo a vedere Il punteggio finale Che abbiamo fatto Comunque La parte più bella È sempre quella del cecchino Che prende il cecchino E li fotti così All'improvviso Senza che loro Se ne rendano conto Ok 20 uccisioni E 14 morti Va bene ragazzi Sono contento Ci sta Alla fine Ci siamo divertiti Queste dette match Mi piacciono tantissimo Perché appunto Il divertimento È assicurato proprio Che dire Spero che il video vi sia piaciuto Qui è Dex Dallaci un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video